Pogacar con la testa bassa e Vingegord che fa l'impresa andando a spianare letteralmente il Col du Granon. E questo diciamo l'epilogo che ci ha dato questa Tour de France sulle Alpi. Ma ancora le montagne non sono finite perché mancano ancora il massiccio centrale e i Pirenei. Amici e amici appassionati di grande ciclismo, buongiorno e benvenuti su un video speciale. Ragazzi faccio un po' il punto della situazione di quello che è successo ultimamente perché ultimamente abbiamo avuto dei problemi soprattutto legati agli impegni universitari e vari e faccio un po' un recapino su tutto quello che è successo. Perché non ci siamo sentiti praticamente dalla tappa di Los Anni in Poi con la vittoria del Buttone su Pogacar. Poi c'è stata la vittoria in fuga da parte di Bob Jungels su tipo Pinot, Castrovieco e compagni. Abbiamo assistito poi alla bellissima vittoria a Mejev da parte di Magnus Cortnilsen che è tappa da fuga bellissima veramente, una delle più belle fughe effettivamente. Forse anche più bella di quella di Jungels perché si è deciso tutti, tutti gli ultimetri. E poi la tappa di Avantieri, cioè quella con l'arrivo al Col du Granon e con partenza d'Alberville e poi la tappa di Ieri con l'arrivo sul gigante dell'Alpe Duets. Allora facciamo un po' il punto della situazione di quello che è successo. Sapete tutti quello che è successo con Pogacar che è stato staccato da Vinggord, con Vinggord che aveva messo prima la squadra a tirare, ad attaccare in continuazione Pogacar con Roglic. C'è veramente strategia dal punto di vista tattico perfetta da parte della Jumbo Visma che ha saputo sfruttare la superiorità dal punto di vista della squadra. Perché lo sapete tutti, la UE ha avuto tantissima sfiga perché ha perso George Bennett, aveva perso già prima del Tour de France Trentin e quindi è in squadra un corridore come Marchirci che praticamente lo sapete non è il Marchirci delle passate edizioni o Marchirci fuori forma. È una squadra falcidata dal Covid perché pure lo sapete mai che è positivo eccetera eccetera. Ma anche se la UE fosse stata al completo non sarebbe mai stata paragonabile alla Jumbo Visma. Perché veramente la Jumbo Visma che cosa ha fatto? Ha preso i suoi otto uomini migliori e li ha schiaffati tutti al Tour de France. Io non so se uno dei corridori della Jumbo che ha fatto il giro potesse venire al Tour e fare meglio di quelli degli otto appunto che hanno composto la squadra per questo Tour de France. Qual è il fatto? Che in molti mi hanno aditato a Matusio Netter di Pogacar. No, perché mi hanno detto tutti ah ma tu hai gufato Pogacar. Sì, io ho gufato Pogacar per un motivo principale. Perché Tadej Pogacar è effettivamente il dio di questo sport in questo momento. Ed è bello che questo dio non domini ma che abbia diciamo un rivale. Un rivale contro cui combattere altrimenti noi perché cosa lo guardiamo nel ciclismo? Noi effettivamente il ciclismo lo vediamo per la narrativa che c'è dietro, per i personaggi che ci sono dietro. Cioè io al di là di fattori di tifo perché io non tifo né Pogacar né tantomeno Jonas Vinggord. Io tifo per lo spettacolo. E lo spettacolo che ci sta regalando questo Tour de France è davvero incredibile. Io ricordo che quando vidi il Tour del 2019 appena vidi il percorso dissi subito questo sarà un Tour molto bello ed effettivamente lo è stato. Certo poi ci sono state tantissime variabili che hanno cambiato le carte in tavola come ad esempio Frum che ha avuto quella caduta al giro del Delfinato. Frum che fra l'altro è risolto ieri nella tappa con arriva all'Alpe d'Uez. Ma quando io vidi il percorso del 2022 ho detto questo percorso è un gran percorso perché contiene montagne sacre come l'Alpe d'Uez, come Utakam, come il Pérezurdo Péperagud, come il Galibie, come la Croix de Ferre. Cioè ragazzi sono queste le Alpi. Non sono come la tappa dell'anno scorso con tutto il rispetto per il Col de Rom, con tutto il rispetto per la salita di Tigno, con tutto il rispetto per il Gran Bonnane. Queste sono le Alpi. Poi ragazzi la fase del figlio ormai è un must secondo me perché ti spezza la classifica generale nei primi giorni di gara e verrà arrivata il settimo giorno. Ma adesso che cosa andiamo a fare? Dopo aver fatto questa breve analisi sul fatto che effettivamente questa vittoria di Wingard al Col du Granon serviva serviva perché doveva appunto dimostrare del fatto che Pogacar, anche lui è umano, che Pogacar anche lui può avere i momenti di cedimento. Andiamo a fare un po' un'analisi di quello che potrebbe essere il Tour da adesso fino a Parigi perché lo sapete, lo svantaggio di Pogacar è abbastanza, però potrebbe essere recuperabile. È molto difficile, potrebbe essere recuperabile. Andiamo a fare un po' una panoramica di tutto quello che sarà da domani, anzi da oggi, fino a Parigi andando a vedere quali saranno le tappe, secondo me, opinione mia personale, a favore di Ita de Pogacar e quelle a favore di Jonas Wingard e della sua Jumbo Visma. Parliamo un po' della tappa di ieri. La tappa di ieri era assolutissimamente a favore di Wingard. Voi direte perché? La salita finale non era difficilissima perché l'Alpe d'Uez ha l'ultimo chilometro finale che è Meme, che quindi va a falsare un po' la pendenza media che è sicuramente più alta nei precedenti chilometri. però sicuramente non è una salita così tanto dura come potrebbe essere il Granon, che è una salita da scatoli purissimi. L'Alpe d'Uez non lo è, però effettivamente guardate che salite c'erano. Il Galivier, la Croix de Ferre e l'Alpe d'Uez. Secondo me, come hanno detto in molti, Pogacar è una sorta di corridore da, fra mille virgolette, ardenne, ma è talmente tanto forte che competono i grandi giri ma vincendoli, perché è un bug del sistema, diciamo. Però secondo me, gli unici punti dove può effettivamente soffrire Pogacar sono forse i tapponi come la rovetta Borbio, cioè come a lunghissimo chilometrale, l'altitudine, perché ragazzi fra ieri e oggi si è salito tantissimo sopra i 2000 metri, e soprattutto le salite dure e lunghe ragazzi, perché se ci fate caso, l'altro piccolo segno di cedimento l'ha avuto sul Mon Bantou. Mon Bantou, che è una salita lunga ragazzi, è una salita molto lunga, con pendenze difficili. Quindi, io credo sia effettivamente così. A questo punto, fatta questa piccola premessa, andiamo a parlare delle tappe che ci vedranno protagonisti da oggi. Tappa di oggi, il Bourgois-en-Saint-Étienne, 192,6 km. Allora ragazzi, qui si parte effettivamente dalle Alpi, ma poi le Alpi si lasciano. Allora, l'altimetria, sembra dire, questa tappa dovrebbe essere per le fughe. Io sinceramente non credo alla possibilità che possa andare una fuga. Vi spiego il perché. Perché la tappa, in teoria, potrebbe essere da fuga, perché comunque lo vedete, è tutta vallonata, con tratti di sali e scendi, eccetera. Ma l'ultima salita categorizzata come GPM, la Cote de Saint-Romé-en-Gal, dista circa 45 km dall'arrivo. Quindi, comunque ragazzi, la strada sale leggermente. A me questa tappa ricorda tanto nel finale. La tappa di qualche anno fa, il Giuritale, mi pare fosse ad Alberobello, mi pare vinse alle B1. Vado abbastanza a memoria. Poi, ragazzi, i velocissimi, vi ricordo che non sprintano dalla tappa con arrivo a Niborg. Cioè, ragazzi, questi corridori, effettivamente, non sprintano da quasi due settimane. Le occasioni per i velocissimi, si sapeva, fossero state davvero poche in quest'edizione del tour. Quindi, io credo che vada qui una volata. Quindi, da questo punto di vista, in classifica non c'era ovviamente niente. Successivamente, domani, avremo questa tappa, che è, secondo me, una delle tappe, ve lo dico, meglio disegnate di tutta questa edizione del tour, perché ha uno, un chilometraggio importante, 192.5 chilometri, ragazzi. Poi ci sono cinque grappe della montagna, ma guardate, a meno di una parte centrale della tappa, fra Rosiera e le Puyambele, fra l'altro Puyambele, non so se ve lo ricordate, ma vissimo le mani del 2017. Ma, ragazzi, cioè, guardate effettivamente com'è questa tappa. Cioè, non c'è quasi mai un metro di pianura, a parte quel breve tratto di strada di una ventina di chilometri. Cioè, ragazzi, in questa tappa, seriamente, potrebbe fare più danno di una tappa di montagna, pure perché l'ultima salita, la salita dedicata a Jalaber, è una salita adattissima alle caratteristiche di Tadej Pogacar. Perché, ragazzi, in 3 chilometri, 10%, Pogacar può effettivamente esprimere quei vattaggi che ha in una distanza così breve, ragazzi. E poi lo sapete dal GPM all'arrivo. Manca poco, manca effettivamente un chilometro e mezzo. Cioè, ragazzi, può fare quello che vuole secondo Tadej Pogacar in questa tappa. E deve per forza attaccare. Perché non ha tantissime occasioni, non ha tantissime tappe così a favore suo, secondo me. In questa tappa, che nel 2018 premiò Omar Freyley in maglia stane, che nel 2015, vado sempre a memoria, premiò Steve Cummings in maglia ancora MTN e Kubeka. Cioè, ragazzi, in quel 2015 battè Pinot e Bardet, che erano andati in fuga, perché erano usciti entrambi di classifica. Cioè, qui deve per forza fare qualcosa tra Tadej Pogacar. Il problema quale sarà? Che sicuramente, appena Pogacar attaccherà, ci saranno i cagnacci della Jumbo, tutti quanti pronti a provare a contrabatterlo. Ma deve farlo, deve provare a rischiare. Perché in questa tappa, secondo me, lui sicuramente se guadagnerà non guadagnerà tanto. Ma dovrà dare un segnale, un segnale forte di io ci sono. Perché è vero, l'ha dato nella tappa dell'Alpe Dwez, ma nella tappa dell'Alpe Dwez, c'era Wingard che gli è rimasto a ruota. Ma gli è rimasto a ruota non che, dici, ha perso un cent... No, non ha perso niente. Rischiava seriamente di tamponarlo di quanto effettivamente non gli ha lasciato nemmeno un centimetro. Quindi, ragazzi, questa tappa è fondamentale. Non so se arriverà alla fuga, secondo me no. Però è una tappa dove Pogacar deve metterci un cerchiolino rosso perché è una delle tappe che gli può permettere di limare qualcosa di qualsiasi generale. Mi raccomando, Tadej, perché è una delle più pochissime occasioni. Ragazzi, successivamente, prima del giorno di riposo, c'è questa tappa. Rodes Carcassonne. Sono 202 km, quindi tappa abbastanza lunga. Carcassonne si dice molto spesso che solitamente la volata non arriva. E ragazzi, io potrei pure essere abbastanza sui generis, ma secondo me la volata arriva venerdì e qui non ci arriva. È una tappa comunque sempre pallonata. L'ultimo GPM è abbastanza lontano dal traguardo. Però non lo so, ho come dell'impressione che in questa tappa non arrivi la fuga. Anche è vero un, diciamo, un incipit per far sì che arrivasse la fuga è il fatto che questa tappa è prima del giorno di riposo. Ed essendo una tappa nel giorno di riposo, sicuramente le varie squadre potrebbero dare qualcosina in più perché giustamente poi si possono riposare un giorno. Vedremo, ragazzi, vedremo, perché non lo so, non lo so. Sono dove. Oggi arriva la volata e domenica arriva la fuga. È una opinione mia personale completamente sui generis, ma passiamo ad altre tappe che sono sicuramente più importanti per la classifica generale, come la tappa 16, la tappa successiva. Che, ragazzi, parte da Carcassona e arriva a Fuà, ragazzi, dopo 178,5 km di percorso. Sarà, diciamo, un po' un antipasto dei Pirenei. Io non credo che in questa tappa succeda qualche cosa. Perché, ragazzi, il Mour de Peguer è una salita con i controcavoli, veramente. Perché voi non dovete guardare tanto la pendenza media che è del 7,9%, che è una pendenza media dura, ma non durissima. Però, ragazzi, dovete vedere del fatto che negli ultimi chilometri di questa salita, la salita non va mai sotto il 10%. La strada è stretta. Sarebbe possibile fare distacchi in questa salita. Il problema qual è? Che, dopodiché, c'è discesa in pianura fino ad arrivare a Fuà. Ora, questo qui è uno, diciamo, dei più grandi rimpianti di questo tour, per quanto sia un tour disegnato davvero perfettamente. Se ci fosse stato un arrivo come nel 2019, quando vinse Samuel Yates su tipo Pinot, a Fuà Pradalby in salita, sarebbe stata sicuramente tutt'altra corsa. E ci saremmo divertiti sicuramente di più. Anche è vero che avrebbero disegnato un tour effettivamente troppo, troppo, troppo duro. Però, ragazzi, disegnata discretamente per le fughe, con l'Hers e col Mourdes-Pégère, magari qualche squillo Pogacar qui lo potrebbe fare, per dire ancora una volta, io ci sono, sono qui, poi magari verrà ripreso in discesa. Non credo succeda niente in classifica generale qui, però è anche qui una tappa dove Pogacar può, diciamo, dare dei segnali importanti per la classifica generale. A questo punto parliamo della vera tappa dove, secondo me, Pogacar può rivaltare il Tour de France, e non è la cronoma. Perché questa tappa qui? Quindi, ragazzi, Stengoden, Peragood, una tappa brevissima, veramente molto molto breve, che per i suoi 129,7 km di percorso, per i primi 53 e 6, non succederà niente, c'è pianura, fino ad Arrocai. Qual è il fatto? Dopodiché ci sono quattro salite quasi rapida successione, perché c'è la Spen, l'Orchè Danzisan, c'è il Valorondazè e l'arrivo a Peragood. Perché dico che questa tappa possa essere buona per Pogacar? Perché è una tappa che ha al suo interno quattro salite che sono tutte quante relativamente corte. Cioè, ragazzi, la più lunga è la Spen che all'inizio, anche il Valorondazè, le pendenze non sono impossibili. E poi, ragazzi, soprattutto a Peragood, la salita verrà affrontata da Ludenvale e non da Bagnard de Luchon, quindi non è esattamente come la tappa, quella che vinse Bardell. L'arrivo è quello, ma il Peresurdo si fa dall'altro versante, quindi non si arriva in cima al Peresurdo, ma poi si gira per andare a Peragood. Quella rampa al 15% è lì che secondo noi Pogacar può effettivamente provare a scavare un posto. Perché, ragazzi, in quella rampa che pare babbabababa tutta rettilinea, si perdono secondi. Non è che Pogacar non può permettersi di arrivare a quella salitone e tentare di fare la differenza. Dovrà attaccare prima. Quindi sarà molto bello vedere effettivamente la tenuta di Vingegord alla terza settimana. Perché mentre abbiamo visto un Vingegord in palla l'anno scorso, sulla seconda settimana, poi nella terza settimana ha provato più volte a staccare Pogacar sia all'Urzar di Denne che a Salary Sulan col DuPortet, ma non ce l'ha fatta. Quindi vedremo un po' se potrà esserci un'inversione di tendenza. Secondo me ve lo dico, fermo restando che la tappa successiva è più dura, ma questa forse è una tappa più adatta alle caratteristiche di Pogacar. Adesso passiamo alla tappa successiva perché è l'ultima occasione effettivamente per gli scalatori per fare qualcosa. Ragazzi, l'Urdu Takam. Sono 143,2 km, ragazzi. E qui veramente ci potrebbero essere dei ribaltoni. Il problema è che l'UAE non ha una squadra fatta per fare i ribaltoni. C'è l'Ovisc, c'è il Koldes Pandeyes, una bella salita, veramente molto molto bella, molto underrated secondo me. E poi ragazzi, c'è l'arrivo a Dutakam. Altra salita abbastanza sopravvalutata perché quando, ok che sono 13,6 km, ma sono 7-8% di tendenza media, me lo metti in oscarata, lasciamo stare. Tappa disegnata anche questa abbastanza bene, ne manca sempre il chilometraggio. Vabbè, ci hanno un po' abituato a fare le tappe relativamente corte al Tour de France. Che dire ragazzi, qui dipenderà molto dalle condizioni fisiche di Vingekord perché se Vingekord sta come stava sull'Alpe d'Uezo, secondo me non lo stacchi. Non lo stacchi perché è vero, è l'ultima tappa in salita, quindi può succedere la qualsiasi. Però ragazzi, qui la vedo veramente molto molto dura. non so se siete d'accordo con me, me la vedo molto molto dura per Pogacar a provare a staccare Jonasson e Vingekord. E poi ragazzi, c'è lo schifo del Tour de France. Io non capisco perché ogni anno abbia la nostra fissazione che dopo le tappe di montagna devono mettere sempre una tappa stupida. Ma non lo so, mettimi la tappa stupida prima, ma non mi puoi mettere alla diciannoisima tappa una tappa del genere. È una delle maggiori polemiche che faccio sempre al Tour de France. La cello magno Gnoccaorz. Qui ragazzi, se non arriva veramente la volata io non so a che cosa credere. Cioè, già hanno poca occasione quei poveri Cristi dei velocisti a questa edizione del Tour. Poi se non sfruttano queste. E andiamo a parlare della cronometro finalmente. Ragazzi, cronometro individuale. La Capelma Rival Roca Madur. Secondo me, questo cronometro nonostante vadano entrambi forti a cronometro, sia a favore di Pogacar. Perché è vero che l'anno scorso nella cronometro lunga del Tour, quella al penultimo giorno, Pogacar ha perso 30 secondi nei confronti di Vingegaard. Anche è vero che Pogacar aveva il Tour praticamente in tasca e poteva benissimo correre staccando una delle due gambe dal, uno dei due piedi diciamo, dai pedali e pedalando con una gamba sola sarebbe riuscito comunque a salvare il Tour. Però ragazzi, qui occhio alle due salite finali, la Cotte de Megren non tanto, ma soprattutto la Cotte de l'Hospitalet perché un Pogacar che è sicuramente più esplosivo rispetto a Vingegaard secondo me qui gli potrebbe guadagnare qualche cosa. Parliamo comunque di babbarie, cioè Pogacar se vuole tentare di ribaltare questo Tour lo deve ribaltare in montagna. Se magari arriva a questo cronometro con pochi secondi di vantaggio nei confronti di Vingegaard chiaramente sfighe permettendo sfighe nel senso forature durante la cronometro roba del genere mettiamoci in condizioni normali qui Pogacar può pure ribaltarlo ma deve arrivare con uno svantaggio minimo nei confronti di Vingegaard perché Vingegaard non è Quintana Vingegaard non è Bardè Vingegaard è un corridore che fa forte a cronometro cioè ragazzi è un corridore che è fortissimo in salita e credo che l'affermazione di Pogacar sul fatto che sia il più forte scalatore del mondo in questo momento sia vera però è anche un corridore che va fortissimo a cronometro quindi non va sottovalutato quindi la capella rival Rocamadour importantissima ma se soltanto se Pogacar arriverà con poco di distacco nei confronti di Vingegaard e poi vabbè ragazzi il campionato del mondo per i velocisti pari la Defensa Arena pari Champs-Élysées vediamo un po' chi sarà il velocista che vincerà sui Champs-Élysées non so perché ma solitamente sui Champs-Élysées molte volte non vince il velocista che fra virgolette ha dominato le volate di questa edizione anche è vero che volate di questa edizione ce ne sono state pochissime solamente in questo momento io ragazzi vi sento che non so perché vincerà Jasper Philipsen questa tappa quindi ragazzi abbiamo fatto un po' una parolamica di quello che sarà il tour per quanto riguarda i post tappa non so se ce ne saranno perché sinceramente adesso siamo un po' in vacanza vogliamo un po' andarcene a mare appena riuscire la tappa perché ragazzi fra fare il video metterlo su YouTube mettere la copertina fare la tappa eccetera passa mezz'ora quindi non so effettivamente cosa cosa faremo settimana prossima vedremo per i vinerei che cosa potremmo fare ah poi ragazzi per le ultime tappe sicuramente non ci saranno i post perché partiremo effettivamente in vacanza vedremo un po' che cosa faremo per questo Tour de France peccato però ragazzi sono gli anni più duri della nostra vita perché sono gli anni universitari gli anni dove ti fai effettivamente il tuo futuro peccato però vedremo un po' che cosa fare niente ragazzi ad un prossimo appuntamento su Morelina Sport Channel ciao belli